Geberheit analisi mensile giugno 2021 Buongiorno benvenuti a tutti siamo sempre in Svizzera siamo con un titolo nuovo di quelli più importanti svizzeri penso che sappiate di che cosa si tratta lo andiamo a vedere multinazionale Svizzera specializzata nella produzione e fornitura di parti sanitarie e relativi sistemi leader nel suo campo in Europa con una presenza globale attraverso le sue filiali fatturato 3.740 milioni di patrimonio netto reddito operativo 604 milioni di franchi svizzeri reddito netto 604 milioni dati del 2017 va bene qua ci sono un po' di dati poi guardateveli non è che questi qua non li capisco benissimo dati del 2017 ok andiamo ecco un'ultima cosa la sede centrale è a Rappersville Iona ok fondatore Caspar Melchior Gelber ok andiamo a vedere il grafico che ci interessa la cosa che ci interessa in assoluto di più abbiamo il grafico della borsa svizzera grafico spettacolare insomma l'azienda quota dal 99 2000 e praticamente è solo esclusivamente salita in quest'ultimo periodo abbiamo avuto un aumento di volatilità parecchio alta quindi insomma un aumento di volatilità che ha proprio ha rotto che ha fatto insomma segnare nuovi massimi assoluti e niente andiamo un attimo a segnarci un paio di livelli allora sicuramente abbiamo questo che è il livello del minimo di marzo eccolo qui ok andiamo a segnare in nell'ordine i target non li segniamo perché siamo sui target abbiamo sicura questo è un livello però che non segnerei perché il mese non è ancora chiuso questo è un altro livello allora abbiamo dei livelli che di massimi comprati che sarebbero i livelli che teoricamente potrebbero dare effettivamente un vantaggio un vantaggio al nel momento in cui il prezzo ritesti però però andrei questo livello qua siccome si sta formando questa candela non è ancora chiusa andrei a segnare quindi subito sotto troviamo questo ok questo livello tra l'altro 487 che tra l'altro come potete vedere era sfadatetto a questo swing che si è creato poi nel 2017 quindi il livello sicuramente importante dopodiché direi che non c'è molto altro da dire sicuramente il livello più interessante nel caso in cui dovesse il prezzo andare a ritestarlo è questo questo livello che aveva segnato guardate didatticamente parlando vi faccio vedere alcune alcune cosine qua avevamo questo swing dato dal ritracciamento di questo di questo anno del 2017 poi prezzo che va a creare nuovi massimi assoluti e guardate con febbraio marzo del 2020 riteste proprio dell'area che viene assolutamente presa dai compratori per rientrare a mercato e ricomprare quindi direi molto molto interessante vedere come questo livello ha funzionato e sicuramente il livello principe da questo punto di vista per poter andare a inserirsi con un rapporto rischio rendimento e con un prezzo medio di carico molto basso ricordatevi che quando i titoli poi ritracciano i primi livelli sono in assoluto quelli che saltano prima quindi direi quantomeno di andare a prendere questo livello e soprattutto questo a 485 nel caso in cui fossimo interessati a questa azienda ma direi che non c'è molto altro da dire anche perché come target appunto siamo sui target siamo massimi assoluti massimi comprati quindi il titolo che continua a schizzare via non abbiamo riferimenti storici passati quindi dobbiamo solo aspettare che si formino i livelli da cui poi magari andare a creare dei target direi che per questa azienda è tutto seguiamola perché è molto interessante un'azienda che sale costantemente in questo modo è sicuramente interessante vi ricordo gli appuntamenti tutti i giorni alle 14 col azionario mondiale lunedì sera materie prime venerdì sera etf mi raccomando se avete commenti o aziende da chiedere fatelo pure e non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace al video ciao ciao